ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale guardate un po oggi sono da primark ebbene sì finalmente ci sono riuscita andare anche io questo primark si trova presso il centro commerciale le gru a grugliasco e è stato aperto più o meno se non sbaglio verso natale un po prima di natale io non ci sono mai riuscita andare prima di adesso e devo dire che ovviamente mi piace un sacco come negozio ero stata da primark solo una volta in spagna esattamente a barcellona e anche là mi ero persa letteralmente perché è bellissimo questo negozio e nulla oggi ho deciso di fare un tour virtuale come faccio per tiger anche qui da primark quindi state qua con me fino alla fine del video così vedete le cose che ci sono insomma io mi sono innamorata soprattutto delle magliette delle cose tipo le calze che sapete che io adoro di tutta la parte delle maschere e bat bomb per appunto il bagno eccetera e poi ogni ogni tot so che cambiano quindi questo era il mese di marzo perché sono andata più o meno fine marzo vedremo che cosa uscirà più avanti sono veramente molto curiosa tra l'altro vedrete più avanti che c'è tutta una sezione dedicata a stitch quindi del cartone lilo e stitch a harry potter e anche in parte alla marvel che so che a molti piace io vi saluto qua vi lascio al video come sempre iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti un bel like un commento qua sotto e se vi va condividete il video noi ci vediamo come sempre al prossimo video e alla prossima un bacione e ciao a tutti ciao 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 ciao